Ma la senti? La senti che arriva? Abbiamo detto cambiamo balletto, ma non ce la facciamo Vai, vai, così, lavaggio dei panni Vabbè, diciamo che è il 28 ottobre 2022 Io sono MM Io sono R.I.P. e questa è la sigla! Non è piaccia come si è il giorno finale Mi aspettavo che venisse un guà E vai, che lunga puntata di ottobre Pensavo mi abbandonassi, ci abbandonassi No, 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 no Assolutamente, assolutamente Come stai, Eribe? Tutto bene, tutto bene, grazie Sì, mi aspettavo, visto che siamo vicino ad Halloween Venissi, non so, truccata da strega Ma va, ma va Signori e signori, le streghe sono tornate Ma si sono mangiate tutte le caramelle gommose No Sì, tutte per sempre Ma la sarai, vai a fare dolcetto scherzezzo No, 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 no No, allora, lo ribadisco Mi piace di più di carnevale, però Però, ecco Sempre però Ci deve essere sempre un però Allora, io amo soltanto una festa Sai qual è? Qual è? Il mio compleanno Ah, giusto, che ti prendi anche un giorno di feri Sì, sì La mia festa che preferisco Va bene, va bene Ci siamo Ultima puntata di ottobre Che bello E così anche ottobre ce lo siamo levati Dai, vai Certo che l'unica cosa che voglio dire È un ottobre con 24 gradi Non hai mai visto Infatti Tu stai bene in queste settimane? Io ho caldo Io ho sempre caldo Al mattino esco con solo la giacchettina Così ho caldo Ah, da una parte molto bene Perché non accenderemo a breve i riscaldamenti Dall'altra I fisici, secondo me, ne stanno risentendo Io ho mal di gambe e mal di testa tutti i giorni Perché fa caldo Ma andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti E ammetto Io l'ho già letto E mi piace molto la sua richiesta La sua storia La sua storia Ok Ciao Ribi, ciao MM Ciao Ciao Sono Federico Ho 25 anni E sono due mesi che mi frequento con Laura Ciao Laura Ci siamo conosciuti a lavoro Abbiamo iniziato tutti e due da poco uno stagio in banca Beh, complimenti Complimenti Sono felici i genitori A proposito del ponte Ci dice Per il ponte di Halloween abbiamo deciso di andare via E le ho proposto una città romantica Verona Che bello Il balcone di Romeo e Giulietta Se qualcuno mi vuole portare ci sono Per ora Verona No, a Verona Vanno a Verona Per ora ci siamo visti sempre a lavoro Oppure la sera ogni tanto in settimana Ma non abbiamo mai dormito insieme Non so questo dormito insieme Dormito? È dormito o dormito? Secondo me è dormito Cioè non l'ha messo con Ah, cioè è dormito Non dormito Ok E non siamo mai stati insieme Per più giorni consecutivi Ok Ok Sono abbastanza emozionato E vorrei farle una sorpresa Come ad esempio farle trovare dei fiori in hotel Visto che so che le piacciono Guardala già la faccia di Eribi Dite che è esagerato Voi la vedreste come un bel gesto Oppure un gesto patetico Help me Ho bisogno di supporto e consigli Grazie Allora Innanzitutto non lo trovo un gesto patetico Ok vai Di prima la tua Però se ti posso dare un consiglio è non far fare questa cosa agli albergatori Ah come vai Perché costa Ok Un consiglio monetario Lo so per esperienza di vita Ok Però ti do un bel consiglio Non so non ho capito se vanno in treno o macchina Non lo dice Non lo dice Io mi farei trovare al treno piuttosto che a prenderlo in macchina con un bel mazzo di fiori Sì infatti allora io lo trovo un gesto bellissimo Io lo vorrei proprio poi vabbè il weekend romantico a Verona è già di per sé molto romantico È vero che vi conoscete da poco Però se avete deciso insieme di andare a Verona Secondo me Dico È una bella tappa Vuoi dire che Esatto Vuol dire che ci sta Ah innanzitutto vuol dire che ci sta Esatto Quindi io consiglio che ti do unicamente non mi sembra né patetico né eccessivo Fallo Ma fallo per i fatti tu hai non farlo fare all'albergatore perché costa troppo Basta Però bello goditi questo weekend secondo me andrà benissimo e facci sapere come va Mi raccomando Mi raccomando noi vogliamo sempre sapere come va perché nessuno più ci risponde Esatto O vi succede a tutti qualcosa o boh O i nostri consigli sono abbastanza buoni Andiamo avanti Quindi Next Beh questa è una roba assoluta Bello e carino Però a me vi piacciono sempre queste cose così romantiche C'è un cuore che propone Eh ma perché tu sei un cuore di panna Ricordati che al mio matrimonio c'è stato il momento Marilena Ah giusto Poi vi diremo cos'è il momento Marilena Poi in un altro momento Nella puntata di San Valentino forse Esatto Ok ok Bene Andiamo avanti Andiamo avanti Allora la prossima rubricchetta è il Il sblocco e un ricordo Questa è la nostra sigla Ok Allora lo sblocco e un ricordo di questa settimana Che cos'è? Abbiate pena di me nel senso state tranquilli e sereni Perché sarà un po' lunghino Mi ho detto Eri B non parlare troppo E invece no Allora lo sblocco e un ricordo di questa settimana È questo Vediamo se la regia ci fa sentire qualcosa No Allora però si sta vedendo se non erro Eh ok il prezzo è giusto Ti ricordi qualcosa? A parte la pettinatura pazzesca di Iva Zanicki Oddio ma è Iva Zanicki? Assolutamente sì quando aveva 12 anni Non l'avevo riconosciuto ma bevamo c'era Allora intanto vi dico delle cosine Intanto Ecco Ecco Senti Giocati a noi M M Quindi gioco io stasera Vinci i dati soldi Vinci i dati soldi Allora innanzitutto ti dico qualcosa Perché sicuramente l'hai visto Sì ne ho sentito parlare L'ho visto e anche se non sbaglio poi ci sono state delle cose un po' moderne ultimamente simili che hanno ripreso un pochettino l'antipologia ma vai raccontaci allora è un game show adattato dall'originale americano che si chiama The Price is Right ok il prezzo giusto andate in onda in Italia dal 21 dicembre 1983 al 13 aprile 2001 stiamo parlando di quasi 18 anni ma ecco perché me lo ricordo magari lo vedevo con mia nonna esatto i condottori nel corso degli anni sono stati Gili Sabani 83-86 Iva Zanicchi 87-2000 Emanuela Folliero 1999 e Maria Teresa Ruta 2000-2001 e cosa facevano? allora innanzitutto è l'unico programma che è riuscito ad andare in onda da Italia 1 più oltre 4 che nelle 5 ah ce le hai fatte tutte e 3 la voce scorica che diceva i premi era Raffaella Bragazzi dall'83 al 99 poi non so chi sia stato 3.466 puntate qua ha superato pure i voti full man quindi il condottore interagiva con una voce fuori campo che annunciava ai concorrenti ed iscriveva i premi e supportava il condottore che è quella signora lì? quella lì è la voce? ah è lei è lei è lei ok quindi quattro candidati concorrenti venivano scelti nel pubblico tutti avevano il loro nome e a random venivano tre e li prendevano così dal pubblico si gioca con noi Eri B c'erano due manche ecco come funzionava il gioco allora innanzitutto si presentava il prodotto che tutti dicevano apriti sesamo bello e usciva un prodotto e bisognava indovinare il prezzo chi ci andava più vicino dei quattro si aggiudicava il premio e veniva messo al gioco finale che era quello della ruota quindi su quattro su quattro quello che andava più vicino arrivava al gioco finale esatto c'erano ben quattro manche ok quattro volte per quattro concorrenti i vincitori di ogni manche si svidavano alla ruota finale nella fase finale chi aveva vinto poteva scegliere quello che aveva fatto il numero più alto ok poteva scegliere la vetrina la prima vetrina cioè nella prima vetrina facevano vedere c'erano sei biciclette un divano e un frigorifero lui doveva dire questo quanto valeva tutta la vetrina tutta la vetrina ok se no poteva prendere la vetrina misteriosa quindi dava un prezzo cento 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 ok quindi la vetrina misteriosa veniva abbinata all'altro concorrente vinceva chi si avvicinava maggiormente al totale della sua vetrina senza superarlo ah se lo superavi quindi se tu dicevi due milioni e ottocento quarantatré c'erano le lire scusa stavamo anche no c'erano solo le lire esatto due milioni e ottocento quarantatré ed era due milioni e ottocento quarantuno avevi perso no vabbè che c'eri andato praticamente vicinissimo io me lo ricordo come un gioco bellissimo ma e in che fascia ora riandavi è andato avanti in più fascia oraria prevalentemente il precena ah ok quindi tutti mentre la signora mentre cucinava si la signora mentre cucinava e i bambini se lo guardavano dopo che tornavano io vi racconto questo aneddoto in casa mia non mi era concesso vederlo perché? non lo so litigavate poi no no non lo so ma mia mamma mi diceva che non dovevo vedere ok il prezzo giusto o non mi piaceva non dovevi sapere i prezzi della vita no sai che cos'è che in casa mia non veniva ben vista Mediaset in generale che all'epoca Fininvest quindi soltanto un giorno in fredura mi manda a Rubrano e tutte quelle cose lì bello però ovviamente c'è avanti delle sorte di veline io mi scasseri tantissimo adesso ma allora in America credo che qualcosa esisti ancora molto simile ma qualcosina mi è capitato no anzi avanti ancora lui The Price is Right è ancora attivo è ancora attivo dopo tutti questi anni bello però bello ti è piaciuto? sai che bello mi immagino lì a cena io e te che guardiamo che il prezzo giusto cioè tipo quanto costa un forno a microonde? eh eh 100 euro dipende però magari è un modello che fa schifo e costa 42 euro certo perché poi devi vedere adesso ci sono tipo tanti modelli no è vero magari trovi al Black Friday eh però tu vedevi quel modello lì eh poi c'era la pelliccia di Annabella una delle è una pellicceria Annabella che c'era questa povera modellina con questa cazzo di Pavia esatto ma promuovevano anche dei prodotti ma allora loro facevano la pubblicità a quei prodotti lì in sostanza ah ok a quel prodotto quindi lo dicevano in marchio cioè il gioco era un gioco assolutamente frigorifero candy quanto vuol costare che ne so e vincevano poi la vetrina vincevano la vetrina assolutamente quindi tu ti ritrovavi con otto frigoriferi cinque biciclette cinque borse per il computer e così il genere vabbè te le portavi a casa però questo è proprio uno spaccato d'Italia sì sì no ma beh parli con chiunque penso che tutti comunque 100 100 bello bellissimo e ribida ho parlato tanto no dai si è stata anche abbastanza veloce andiamo con gli eventi della settimana a cui io non andrei però respira prendi un po' di fiato allora uno tra tutti uno tra tutti questo weekend è Halloween Halloween da pirati all'Alcatraz bello con la bending sull'occhio secondo me un sacco di voi andranno sicuramente ah non sono tanto belli gli eventi di questa settimana non mi sono piaciuti allora domani dopo domani perché sono i eventi a cui non andresti 29 e 30 ottobre dalle 19 e 30 c'è a Rolistica Rolistica quindi a Rolistica sì fiera del benessere olistico e dello stile di vita sano allora non so cosa sia il benessere olistico a dirti la verità quindi vorrei andarci solo per scoprire che cos'è tu sai che cos'è? no bene no ho un'idea di che cos'è l'olistico c'è tutte quelle cose c'è amico tutto quello che c'entra con la testa non penso ma andremo a vedere pensa anch'io ma tu no pensa anch'io poi dal 19 al 20 di ottobre al 29 scusate di ottobre quindi ancora per domani arte e cibo l'evoluzione del gusto nell'arte antica comunque sul cibo fanno sempre un sacco di cose ci piace ma cioè adesso io vai metti una cosa a me ne ci interessa nell'arte antica che cosa facciamo con il cibo metti sì metti cosa che cosa vuoi sapere che cosa metti metti che che tornano gli antichi antichi antornano no magari dobbiamo vedere cosa mangiavano una volta e quindi lo ripropongono con piatti un po' svariati secondo me è bello il via Pisa Cania non mi ricordo che numero c'è questa cosa bello basta i venti di settimana sono sei perché ero tutto all'unico sicuramente conoscendomi sono già lì sono già lì io ti ci vedo bene o da streghetta oppure da pirata da piratessa sì 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 con questa frangetta io sono frangetta questo frangetta è tempo dai dai c'è la mia rubrichetta io voglio sapere la rubrichetta andiamo con la mia rubrichetta sì è il mio turno è il mio turno gli sgrami di M&M senti la sigla non c'è mai per me nessuno non la vogliono mettere la mia sigla non la vogliono mai mettere vi preparo col mio ovviamente cellulare perché voglio riscrivere sul cartaceo e andiamo alla mia rubrichetta allora un piccolo sgamo lo sgametto lo sgametto parliamo sempre di mezzi pubblici scusate però c'è tanto da dire sui mezzi pubblici di Milano ok e oggi parliamo degli abbonamenti ovviamente immagino che tu avrai l'abbonamento da una vita no ho avuto l'abbonamento studente e invece sei cresciuta qui no ho avuto l'abbonamento studente finché era possibile avere l'abbonamento studente dopodiché sono diventata lavoratrice ho fatto l'abbonamento adulto e basta e basta invece invece grazie alla regia ci manda in onda la mappa di Milano perché oggi parliamo degli abbonamenti urbani ok quindi voi vedete la mappa e vedete che in realtà a Milano ci sono tante fasce esatte tante fasce tanti colori quindi noi andiamo precisamente nella parte centrale di Milano quella grigina più chiara esatto fin dove arrivano quasi tutte le metro perché fate attenzione quando fate l'abbonamento mi raccomando ecco grazie quando fate l'abbonamento fate attenzione perché se voi dovete andare ad esempio a Rolfiero a Milano a lavorare e prendete non so la metro all'otto non vale l'abbonamento urbano no no perché mi guardano male no perché non è così no sì sì è così esatto gli abbonamenti quindi vanno a fasce ah ok come a Londra esatto l'urbano l'urbano quindi prende solo grazie l'urbano prende solo quella fascia che vedete grigio chiaro cioè all'interno del comune di Milano mi uno esatto comune di Milano no attenzione anche alcune cose fuori dal comune di Milano tipo attenzione no tutto Milano è tutta Milano è che Milano è che Milano Raffiera è fuori penso che Piero sia già fuori quindi andiamo avanti quindi non mi confondo io voglio dare devo dire i consigli base allora fate gli abbonamenti perché conviene prima di tutto sempre bisogna fare la tessera per caricarci sull'abbonamento che sia mensile annuale ok quindi fatevi la tessera andate sul sito richiedete la tessera costa solo 10 euro e poi potete andare o nei punti ATM nelle metropolitane sai dov'è uno? sì in Duomo ad esempio anche a Romolo pensavo di cogliermi in preparata invece sì sì c'era dopo di che oppure hanno messo tessi tu sai chi ha i tessi? sarà uno stupido che puoi farli non lo sai eri miei di Milano e non lo sa non uso la metropolitana tessi è una macchinetta dove tu puoi andare a ritirare fisicamente la tua tessera senza fare le code quindi vai ma sempre ad esempio in Duomo quindi tu vai da tessi inserisci il tuo codice clicchi ok e lui sul momento ti stampa la tua tessera bellissimo sì è stata un'emozione vabbè ma solo per dirvi andate sul sito di ATM per vedere che tipo di abbonamento è il migliore per voi perché tu dici prima ero studente faccio un abbonamento adesso lavoratore ne faccio un altro invece no ci sono io ho messo solo quelli i primi abbonamenti quelli più frequenti che sono ben 11 usti quindi abbiamo abbonamenti ordinari l'abbonamento in base al reddito quello urbano giovani under 27 giovani under 30 studenti urbano senior senior residente a Milano hanno fatto una marea di abbonamenti mi auguro che senior residente a Milano paghi meno di quelli di fuori pagano pochissimo infatti devi dire la tua mamma perché costa ancora di meno rispetto a quello che fa lei ma devi andare al CAF anche perché devi far vedere il tuo reddito poi abbiamo abbonamento disoccupati abbonamento con famiglie per figli a carico minori in affido residenti città metropolitana una marea una marea quindi mi raccomando fate attenzione che tipo di abbonamento potete prendere io ho uno sgamissimo fate attenzione perché la tessera dell'abbonamento scade dura 10 anni però scade ha una scadenza quando scade dovete andare di nuovo a rifarla esatto consiglio comunque ho visto un attimo i prezzi gli abbonamenti annuali raga conviene se lo usate raga fate lo subito subito pago come è pago pago pretendo come era quello non lo so non mi viene torneremo la prossima volta ti piace mi è piaciuto non è molto grande ma va bene mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace allora siamo quasi alla fine buon halloween a tutti bronzatevi cercate di non farvi ammazzare vi ricordo che in america questa è la notte più pericolosa dell'anno quindi state attenti alla notte tra domenica e lunedì e ricordatevi di fare il cambio dell'ora giusto c'è il cambio dell'ora non l'abbiamo detto quindi quindi la domandella della scorsa settimana era ve lo dico subito ragazzi innanzitutto la domanda era shopping fisico o shopping online sai che ha vinto che ha vinto il fisico ovviamente ma ovvio io sono sempre comunque per lo shopping online fate i resi che tanto i soldi vi vengono indietro shopping fisico tutta la vita invece la domandella di questa settimana è ma tu preferisci la colazione o la merenda o la merenda